Come si svolge la tua attività? So che qui avete un'importante attività agonistica anche con i giovani. Sì, a livello giovanile, nonostante sia un circolo di tradizioni, abbiamo parecchi ragazzi, adesso in questo momento tra i 6 e i 18 anni ne abbiamo un'ottantina, tra squadra agonistica, preagonistica, avviamento e pulcini e questi ragazzi diciamo fanno il corso settimanalmente con il nostro gruppo di professionisti, abbiamo anche degli aiuti di ragazzi che sono professionisti giocatori e quindi ci aiutano un po' nel gestire i vari corsi e questi appunto, dicevamo, questi, diciamo i nostri ragazzi poi seguono il loro circuito, le loro gare tutto l'anno in giro per l'Italia, i vari campionati a livello giovanile. Da quest'anno abbiamo poi in più la fortuna di avere Eric Ottons come sponsor per l'abbigliamento delle nostre squadre giovanili, qui oltre al personale, veste anche il personale del nostro circolo, quindi questa gara diciamo siamo molto contenti che il circolo ospiti questa gara del circuito Eric Otto. Il limite d'età non è così breve, diciamo non bisogna iniziare così presto come in tanti altri sport, però nonostante tutto, anche a livello di federazione italiana e tutto, in questi ultimi anni si cerca un po' di anticipare i tempi, quindi abbiamo già i ragazzini di sei anni che iniziano a giocare a gara.